Straordinario l'andamento della stagione agonistica 2018-2019 della Bormio Ghiaccio, società che ha formato Arianna Fontana, olimpionica di Short Track. Una realtà che si prepara a organizzare i campionati mondiali juniores del 2020, sotto l'ala del fondatore Maurizio Gurini. Festa grande sabato al Pentagono, dove sono stati ricordati due validi collaboratori che non ci sono più. Massimo Todesco, in rappresentanza del quale la moglie Beatrice ha consegnato alcuni premi speciali, e il giornalista Armando Trabucchi, curatore della rivista Bormio Sport. Dedichiamo a festeggiare una stagione che è stata sicuramente positiva, sta andando in crescendo, abbiamo sempre un ottimo numero di tesserati, i risultati, inutili stiamo a palencarli, però, sono sicuramente venuti. E quindi cerchiamo di proseguire su questa intrapresa. La Bormio è un nome e una garanzia, perché da parecchi anni sforna diversi campioni, anche le ultime medaglie dell'Olimpiadi di Pioncianga arrivano da atleti che sono nati, cresciuti in questa società. Con lui, il braccio destro Michele Cola, Antonio Giacoma, rappresentante regionale, Adelio Antonioli, responsabile tecnico del settore, il sindaco Roberto Volpato, che si è complimentato coi ragazzi che esportano il nome di Bormio nel mondo. Gongola anche Pierluigi Speckenhauser, presidente dell'Unione Sportiva Bormiese che ingloba la Bormio Ghiaccio. Abbiamo tantissimi sport e noi ne curiamo ben dieci settori, abbiamo l'Unione Sportiva, e il ghiaccio sicuramente è un punto di orgoglio per la nostra posizione. La stagione che si è conclusa ha impegnato la società per dieci mesi, coinvolgendo 98 atleti tesserati, 24 le gare svolte di cui 20 a Bormio. I tanti podi conquistati in Italia e all'estero, come l'oro di Lukas Peckenhauser, nei 1500 al campionato europeo di Rostock, in Germania, e quello di Elisa Confortola, nei 1500 metri, alle giornate olimpiche della gioventù europea a Sarajevo, confermano la forza del gruppo che da 39 anni sforna campioni e che continua a vincere. Un sodalizio nato negli anni Ottanta, sui campi d'erba dell'oratorio, che d'inverno i volontari innaffiavano perché diventasse ghiaccio. Tanti atleti dei comuni dell'Alta Valle hanno portato delle medaglie olimpiche a Bormio e Valli. 16 atleti sono entrati per merito dei risultati nei vari corpi militari. Abbiamo organizzato eventi a livello mondiale e a livello europeo. Nel 2020, per l'ennesima volta, ci apprestiamo ad organizzare i mondiali junior. Un centinaio di giovani si sono radunati per le premiazioni. Con loro anche gli atleti del curling, la nuova disciplina che diventerà olimpica, reduci dalla vittoria nazionale di Cortina.